Sfilerà nel centro storico sabato 22 giugno il Pride Mediterraneo di Napoli, presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo, la tappa partenopea dell'Honda Pride che attraversa 30 città italiane da Torino a Siracusa, coi colori dell'arcobaleno LGBT. Il corteo partirà alle 16 da Piazza Dante e percorrerà via Toledo e Piazza Plebiscito per concludersi sul lungomare. Secondo i dati segnalati dalle associazioni sono in aumento i casi di violenza e di discriminazione verso le persone gay e lesbiche anche in ambito familiare, soprattutto nella fascia fra i 12 e i 21 anni. Secondo Lunar, Agenzia Nazionale contro la Discriminazione, il 30% degli intervistati non vorrebbe una persona transessuale come vicino di casa. I Pride in tutte le città d'Italia in questo momento sono fondamentali e io spero che siano anche capiti dalle persone che non hanno problemi di esclusione o di fragilità, ma che sia veramente un'occasione per poter manifestare in piazza il proprio dissenso nei confronti di un governo che sta creando delle barriere, delle barriere fra le persone e sta alimentando l'odio, sta alimentando l'omofobia, la transfobia, tutte le forme di discriminazione nei confronti delle diversità e sta soprattutto utilizzando un'arma pericolosissima che è la paura. Quando si supera una soglia che è quella della tolleranza, che già è una soglia molto limitata e si alimenta l'odio e la paura, si rischia veramente di consegnarsi ad un potere e di diventare dei sudditi. Con lo slogan politico, legittimi diritti, il Pride napoletano punta l'attenzione sulla tutela delle persone più vulnerabili e sulla necessità di azioni contro la marginalità sociale, ma anche sulla piena eguaglianza dei diritti civili. Mai come quest'anno è fondamentale partecipare al Mediterranean Pride, con tutta la comunità LGBT unita, perché stiamo assistendo nell'ultimo periodo a una retrocessione sui diritti. Quindi lo slogan del Pride è legittimi diritti affinché vengano riconosciuti ai sindi singoli, alle coppie e a tutte le famiglie gli stessi diritti. Noi vi aspettiamo sabato perché abbiamo bisogno del sostegno di tutti affinché il nostro Paese avanzi e non retroceda su queste tematiche. Novità di questo Pride sarà la festa finale che si svolgerà in serata all'Edenlandia, grazie all'accordo con lo storico Parco dei Divertimenti. Grazie. Grazie. Grazie.